Salve a tutti, quello che state per sentire è il tributo che Titecubo rende a Dragon Ball. Buon ascolto. Secondo te è più forte l'onda Kamehameha oppure la Dodonpa? Questa è la conversazione più vecchia che io ricordi riguardo Dragon Ball. All'epoca andavo alle elementari e questo era il genere di discussione che avevo con un mio amico tornando a casa da scuola. La mia opinione era che la Dodonpa fosse sicuramente più forte. Per il poco tempo trascorso tra la preparazione e il lancio, per l'enfasi della voce durante l'esecuzione e il lancio del colpo e poi perché sprigionava un'energia potentissima pu essendo sferrato con un solo dito, mentre la Kamehameha necessitava di entrambe le mani. Per quanto ci riflettessi, la Dodonpa era indubbiamente più forte. Così, mentre convincevo il mio amico che questo nuovo personaggio poter sul serio uccidere Goku con la sua Dodonpa e che il killer più spietato del mondo era Taobaibai, lo vedevo rabbrividire di paura. Secondo me Dragon Ball è un fumetto con dei personaggi cattivi eccezionali. Non voglio dire che odiassi i protagonisti, solo che mi piacevano i cattivi. Il succitato Taobaibai all'inizio, poi Giozzi, Piccolo, Radish, Vegeta, Nappa, Zarbonne, Dodoria, Giniu, Ricom, oltre naturalmente a Freezer e a quelli successivi, è un elenco senza fine. Non riuscirei a individuare qualcuno che non mi piacesse. Più o meno tutti avevano un lato del carattere poco serio e burlone ma piuttosto che l'impertinenza erano la forza e la cattiveria a spiccare forse la perfetta fusione dei due elementi espressi in Malimbu. Era bello provare costanta paura. Dal momento che i nemici erano così forti, quando soccombevano facendo emergere ancora di più la potenza dei protagonisti e in questo modo adempivano al meglio il loro compito. La scena in cui Trunks fa la sua comparsa nella storia non ha eguali, ancora oggi non ho trovato nessun fumetto d'azione che mi abbia fatto provare la stessa emozione e di certo non lo troverò mai. I cattivi devono categoricamente essere forti, paurosi e affascinanti, è una cosa che ho imparato leggendo Dragon Ball. Quando riprendo in mano il fumetto questa cosa mi torna in mente, così come sfogliando le pagine provo gli stessi brividi di allora.